Il prossimo 30 giugno ci saranno le elezioni per individuare il successore di Ettore Baratelli alla presidenza del Lancia, l'associazione dei costruttori dell'Aquila. Sarà una corsa a due alla scadenza delle candidature, si è appreso però che solo due sono state presentate dagli imprenditori Adolfo Cicchetti e Francesco Laurini. La poltrona di presidente è molto ambita ed è rimasta scoperta da quando l'ex Ettore Baratelli ha deciso di dimettersi a seguito della condanna in primo grado in un processo relativo alla ricostruzione post-sisma di una parte della caserma Campomizi destinata agli studenti. In realtà all'inizio si era fatto anche il nome di Stefano Cipriani che era stato lo sfidante di Baratelli e che aveva perso le elezioni, ma poi la sua idea di candidatura è sfumata. Adolfo Cicchetti è un giovane, ha fatto la trafila della dirigenza del Lancia, è l'attuale presidente di Edil Confidi Ance, è anche ex presidente di Giovani Ance, ma soprattutto viene da una famiglia di costruttori figlio di Filiberto che è già stato presidente del Lancia. Francesco Laurini invece è più esperto per quanto riguarda l'età, è vicepresidente ed è molto noto anche lui nel mondo dell'imprenditoria.